Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli i GVolt, link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ebbene sì, questo è ufficialmente il primo video della carriera in questa nuova stanza che ho solamente girato, siamo solamente capovolti rispetto a quello che siamo abituati a vedere normalmente. E quindi oggi voglio iniziare anche una cosa un attimino diversa perché sta andando benissimo questi episodi della carriera come tutti quelli derivati dal calcio mercato. Quindi salutiamo subito l'ultimo like su Instagram, potete trovare tutti i link ai miei social network qui sotto in descrizione, tutti i link ai canali di Braidless e iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like su Instagram è di Elia Nardo, quindi ti saluto Elia, dici forza Juve anche te, quindi sei uno dei nostri. Ma soprattutto questo video è molto importante perché per la prima volta posso farvi vedere questo. Potevo farci un video dedicato interamente ma ho preferito una cosa molto più semplice, affrontare l'argomento all'interno della carriera. Questo è il bottone, questo è il riconoscimento che attesta che Luca Toselli ha superato i 100.000 iscritti su YouTube e quindi adesso andrà lì tra la maglia del Piero e il mio diploma, andrà appeso insieme a tutto il resto. Questo qui lo volevo far vedere in un video, lo volevo dedicare un po' a tutti quelli che mi seguono sin negli inizi e so che ce ne sono ancora tantissimi che sono affezionati a me. Dicevo che questo è il primo video all'interno della nuova stanza, anche se in realtà non è stato così perché ne ho fatti tantissimi altri come quelli della Juve, ma quella è stata un'esigenza temporale, anche se a dir la verità sono stati concentrati solamente commenti sui miei baffi e non sul contenuto del video in generale, ma questa, questa, questa è YouTube Italia. Allora ragazzi, dato che il calcio mercato non è ancora finito, mancano 4 ore, proviamo di ingaggiare qualcuno a parametro zero, tipo Balotelli che non costa tantissimo a livello di stipendio, è italiano, ce lo potremo anche rivendere, guarda, gli diamo anche, dai, gli diamo 70.000 a settimana, 4 anni di contratto, giocatore importante prima squadra, perché Balotelli a parametro zero potrebbe essere bello. Ho provato anche per Isco, non ho abbastanza soldi, messi mi sembra fuori portate, quindi per adesso ci accontentiamo di Balotelli. Andiamo avanti queste ultime ore del mercato, un mercato veramente strepitoso, bellissimo, strato sferico, andiamo a vedere che cosa ci dicono, vabbè, Giorgio Chiellini, anche lui era in scadenza, avevo provato a vedere se riuscivano a venderlo, ma aveva appena rinnovato il contratto, io sono interessato a Mario Balotelli, voglio sapere se Mario nel prossimo anno giocherà con la maglia del Sassuolo. Balotelli viene in Italia, Balotelli viene al Sassuolo, eccolo qui. Accettiamo l'offerta per Super Mario Balotelli. Oh, adesso sono abbastanza tranquillo, perché dato che se ne andrà Nianche, tornerà a Milan, arriverà Balotelli, perché in tanti mi state chiedendo, ma ci sarà una terza stagione del Sassuolo? Ebbene sì ragazzi, questa non è l'ultima stagione della nostra carriera natura di FIFA 17, un'altra stagione la voglio fare assolutamente, e per lì ragioneremo se cambiare squadra, se cambiare campionato, vedremo un attimino anche come andranno queste ultime due stagioni al Sassuolo, questi ultimi sei mesi, più la prossima stagione, perché io veramente mi sto appassionando di questa squadra che ci siamo costruiti di giovani italiani e mollare adesso non avrebbe senso. Andiamo a giocare la partita contro l'Udinese, e tra l'altro adesso con tutti i giocatori nuovi, con tutti i giocatori appena arrivati, dobbiamo fare un figurone, dobbiamo fargli vedere che questo Sassuolo è tanta tanta roba. Berardeschi, Belotti, Verardi, Sturaro, Pellegrini, Baselli, Spinazzola, Rugani, Romagnoli, Zappacosta, Donnarumma, ditemi una carriera con una squadra più forte di questa, non la troverete mai. Anche perché in panchina c'è il Papu Gomez che fa ba 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 ba. Uh, sono teso, sono teso perché dobbiamo confermarci, dobbiamo riuscire a portare a casa tutti i nostri obiettivi stagionali, e ovviamente la serie A, ovviamente i tre punti servono, servono come l'ossigeno. Si appoggia Pellegrini, facciamo girare il pallone come al solito, Baselli tocca il suo primo pallone con la maglia del Sassuolo, L'abbiamo preferito Marchisio Vediamo se riuscirà ad essere un degno erede del principino Anche con la nazionale italiana di calcio E con la propria Baselli non riesce a tirare E l'Udinese ci sta un attimino coprendo tutti gli spazi Se non ci mettiamo una giocata con il tacco come questo Non riusciamo ad andare dentro Melotti Il tiro del Gallo E c'è il gol del Gallo Stavo dicendo che non si riusciva ad entrare Ma poi Melotti si mette un appoggio stratosferico con il tacco E poi subito Baselli decisivo Gli la ridà Perché sa che il Gallo Melotti fa gol Giocava in serie anche lui Giocava nel Torino con lui E adesso sono tutti i due nostri L'8 e il 9 Inventano il gol dell'1-0 Su l'Udinese Sassuolo 1 In vantaggio Come al solito As usual Ha segnato il Gallo Melotti Veramente bello ed importante Capire che i nuovi acquisti appena arrivati Si sono già integrate alla perfezione Sono già decisivi Come Spinazzola Anche Baselli Alla sua prima partita trova il gol Anzi l'assist per il gol Dell'1-0 Subito in vantaggio noi Pellegrini Dentro per Sturaro Ancora dentro A cercare il Gallo Melotti Melotti si gira con il tacco per Pellegrini Sturaro da fuori E poi ancora Sturaro il tiro Carnesis Sturaro Dentro per Baselli Attenzione Melotti Mamma mia Da falso move Da trequartista Serve Mimmo Berardi Il suo compagno preferito Berardi A giro con il mancio Sbagliare il primo gol Con la mano del Sassuolo Anche all'ultimo componente Del nostro attacco a tre Vediamo se ci riusciamo Senza prendere gol magari Proprio Cicciolodi Sul punto di battuta Col suo mancino Fattato e magico La mette dentro Mamma mia Ero già convinto Di prendere gol Attenzione Si butta dentro Pellegrini Chiede uno e due Belotti Pellegrini Si propone Ancora Pellegrini Allarga su Berardi Che vuole andare sul secondo palo Eccolo qui Lorenzino Ma cosa hai sbagliato L'azione della vita Orchestrata da te A porta vuota Di testa L'hai buttata fuori Lory Ma cosa fai? Sturaro Dentro per Bernardeschi Si appoggia subito Al Papu Gomez Adesso Udinese E un attimino scoperta anche Ancora Bernardeschi Vede il taglio bellissimo Del compagno E Baseli La mette giù Baseli Il tiro La parata Di Carnesis Nega il gol All'esordio a Baseli Ma che palla Che palla Gli ha dato Bernardeschi Addirittura Carnesis A saltare Sul 2-0 Ma perché mai? Cosa se ne fanno Del 2-1 Guardano La differenza Dei gol segnati Dei gol subiti Attenzione Perché il Papu La recupera E poi possiamo andare Col Papu E non c'è Carnesis Vai Papu Fai quello che vuoi Ancora il Papu Gomez E più veloce lui Di Carnesis Ancora il Papu Ancora il Papu No volevo entrare in porta Con il Papu Con il pallone Invece che tirare A porta vuota Semplicemente Finisce qui Vinciamo 2-0 Potevano fare il 3 Ma sono un coglione Volevo fare il gol Stupido Ormai il vantaggio Si fa imbarazzante Pi 7 Sul Napoli Mamma mia Più 7 sul Napoli Più 13 sulla Juventus Mamma mia Incredibile Ormai la Serie A È qualcosa di archiviato E Belotti Vuole parlare Del suo ingaggio E mi sembra giusto Alzare un attimino L'ingaggio del Gallo Belotti Dato che ci sta trascinando A qualsiasi vittoria Cioè i nostri due attaccanti migliori Belotti e Berardi Sono scontenti Belotti vuole 70.000 E io ne do 75.000 Perché se lo merita Giocatore chiave Prima squadra Vai Gallo Giochiamo contro L'Atalanta Vogliamo ipotecarlo Questo campionato Vogliamo ipotecarla Questa Serie A E quindi giochiamo Quasi con la formazione titolare Magari facciamo solo Qualche cambio Qui e là Per far giocare Un po' tutti Dai Papu Facci volare Sulle ali dell'entusiasmo Bella palla Innescare Bernardeschi Attenzione Perché adesso arrivano Sia il Papu Che Belotti Per una Possibile occasione Bernardeschi La metti dentro Per il Papu Il tiro del Papu Calcio di rigore Per cosa Antei tra l'altro Anche questo Ex Sassuolo Procura il rigore Va benissimo Io sono contento Non ho capito Cos'è successo Ma va bene così L'importante è che ci sia il rigore Eccolo qua Il Papu Che entra in area Prova a tirare Ah si eh Eh si Non è ancora arrivata La palla al Papu Fallo su Bernardeschi Di Antei Calcio di rigore Per il Sassuolo Meritatissimo Eccolo qui Il Gallo Pronto Dal dischetto Contro Marco Sportiello Parte Il Gallo Belotti Vuole battere il rigore C'è il gol del Gallo Ancora il gol del Gallo 1-0 La sblocca ancora lui Con Sportiello Che rimane per terra Dentro la porta Anche se c'è Bernardeschi Che voleva segnarlo A tutti i costi Se l'era procurato Ma non è importante Perché questo qui È il nostro capo cannoniere Questo qui È il nostro bomber Questo qui Deve rinnovare il contratto Guai a te Se fai come Berardi Guai a te Tredicesimo gol In Serie A Per Andrà Belotti Che giocatore ragazzi Che player La mette Bernardeschi Dentro così Per Rugani Non riusciamo a prenderla di testa In questo primo acchito E poi riusciamo A mantenere il possesso Mattiello Dentro così Per il Gallo Belotti Che si gira Ancora Belotti È entrato in area Belotti Attende il rinforzo dei compagni E poi la mette Per Mattiello E c'è il tuo a zero Di Federico Mattiello Segna il suo secondo gol In campionato Non ci credo Per il gol alla Juventus Ecco anche qui Il gol all'Atalanta E tra l'altro Non sta giocando mai adesso Perché è arrivato Spinazzola Ma forse vuole farci capire Che addirittura Segna con il destro Perché vuole rimanere Un altro anno la Sassuolo Potrebbe essere un segnale Del destino Attenzione a non rispettare Mattiello Attenzione all'Atalanta Con Toloi Che si propone lì E poi Riusciamo a uscire in qualche modo Riusciamo a far ripartire Berardeschi E adesso È praticamente Un tre contro due Se non ci interrompono così Dentro per Pellegrini Come al solito Che si propone sempre Pellegrini Pellegrini La sbaglia Clamorosamente A tu per tu Con il portiere Non è da te Tra l'altro è già Il secondo errore grave Di Pellegrini In questo episodio Prima con l'Udinese di testa Portavuota E poi questo E questo è fuori gioco Ad Alessandro Il Pappu Dentro per Pellegrini Che dovrà farsi perdonare In qualche modo Nei prossimi episodi Ecco il tiro di Bernardeschi Gliela tolgono Dall'incrocio dei pali Dentro per Berardi Attenzione C'è Belotti Lo stop Il tiro del Gallo Belotti Ancora Cavalcio d'angolo Anzi no Perché Berardi La tiene E poi è rimesso Laterale per l'Atalanta Finisce qui ragazzi 2-0 Ancora una volta Gol e assist Del Gallo Belotti Ancora una volta 2-0 E ancora una volta Portiamo a casa Tre punti Molto molto importanti Grazie mister Grazie E vabbè Più 8 sul Napoli Più 8 sul Napoli E veramente tantissimo Adesso c'è la Roma Possiamo un attimino Concentrarci Mi tocca fare Turnover Con la Roma Per tenermi fresco Con il Monaco È incredibile Vi tocca fare turnover in campionato E intanto Dobbiamo festeggiare Perché Belotti Ha accettato L'offerta del rinnovo Un anno in più Di contratto 75 mila settimana E per l'occasione Per festeggiare Il rinnovo di Belotti 6 punti In questo episodio Il mio bottone di Youtube Il primo episodio In questa camera Salutiamo ancora una volta L'ultimo like su Instagram Che è di Alessio 7 Federico 5 Ale lo io io Quindi non so Se ti chiami Alessio Federico Io ti saluto tutti e due Ciao Alessio Ciao Federico Ciao Ciao Ciao